Quindi Matteo Renzi sarà rottamato dai piccolissimi, cioè gente in pannolino? Sì, beh, noi stiamo spingendo per riuscire a riciclare anche questa frazione del nostro rifiuto che quando un comune raggiunge, come il nostro, Monte Nelle Alpi, all'oltre il 90% delle cose differenziate, anche il pannolino diventa una frazione rilevante. Ma non i pannolini di Renzi? No, assolutamente non, i pannolini per adesso dei nostri concittadini, poi speriamo di arrivare anche ai pannolini, non tanto di Renzi, ma dei cittadini di Firenze. Dell'abbadante di Renzi. Esatto. Quindi il comune si chiama? Monte Nelle Alpi, provincia di Belluno. Comune riciclone. Per tre anni consecutivi comune riciclone d'Italia. Quindi 92? Più del 90% e oggi il nostro piatto, come dicevo, è quello di abbattere anche il peso di questi pannolini usati. Con un pannolino dell'abbadante di Renzi, in un'evoluzione dell'appuntura, ma soprattutto a ricavare il pannolino, che è un prodotto di grande qualità quando è pronto, della tecnicità e della tecnicità, di controllare le materie, e dopo l'uso che tratta di me, quindi è vivo. Grazie a tutti.